Sindaco, ieri la Presidente del Municipio 3 ha proposto di pedonalizzare nel weekend forse Buenos Aires, su un'ipotesi incredibile. Non è una cosa sul mio tavolo, per cui io non esprimo giudizio su cosa che non ho proprio mai neanche esaminato tecnicamente. Non è una cosa che mai è arrivata sul mio tavolo. Bisogna certamente lavorarci, ma mi sento di esprimere giudizio. Ma qual è l'obiettivo entro-fine mandato su Forse Buenos Aires? Hai parlato un po' in campagna elettorale, quale potrebbe essere? La revisione della pista ciclabile senz'altro lo è, perché se riusciamo a togliere un po' di parcheggi laterali può diventare una cosa più piacevole e più sicura. Quindi il mandato, l'incarico che ho dato all'assessore Censi, di ragionare su questo. Trovare forno al collettorio a un po' di parcheggi e fare una pista ciclabile più in sicurezza e che sia anche un po' più lineare. Questo è il primo obiettivo. L'obiettivo più grande è quello invece di rivedere i marciapiedi e gli spazi a quel punto tra pedonalizzazione e auto. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando.